Che fine ha fatto l'indagine conoscitiva annunciata dal presidente Oliverio a proposito della pubblicità comparsa sulla rivista di bordo della Ryanair che riproduceva la grotta dell'arcomagno di San Nicola Arcella? Con questa domanda parte la lunga nota divulgata dall'ex vicesindaco di San Nicola Eugenio Madeo circa la mancanza di notizie sull'indagine conoscitiva lanciata dal governatore calabrese all'indomani della pioggia di critiche sul marketing turistico della nostra regione. Su quella rivista ricordiamo era stata pubblicata una foto dell'arcomagno di San Nicola evidentemente scelta tra quelle più diffuse sul web e non scattata ad hoc per l'occasione che con l'estetica aveva poco a che fare e forse anche con il concetto di promozione territoriale. Il lavoro fu definito da peracottari cioè fatto coi piedi della celebre blogger alla quale lo stesso Oliverio non poté fare a meno di dare ragione. Ringrazio Selvaggia Lucarelli per aver segnalato una vicenda che non può in alcun modo trovare giustificazioni, scrisse il governatore sul suo profilo Facebook. Di fronte a questa ennesima porcheria frutto di una burocrazia sciatta e indolente disporrò immediatamente un'indagine conoscitiva per accertare ogni responsabilità. La Calabria merita altro. Il nostro pensiero andò a quei poveri grafici che si sarebbero presi una bella strigliata ma questo in un mondo perfetto e a questo punto e dopo tre mesi di silenzio giustamente l'ex amministratore San Nicolese come tutti noi vorrebbe sapere l'esito di questa indagine qualora ci sia mai stata. Quando si vogliono sapere veramente le cose, scrive Madeo nella nota, non c'è bisogno di disporre alcuna indagine conoscitiva perché è sufficiente in meno di mezz'ora convocare il dirigente del settore turismo per chiedere a lui spiegazioni e poi adottare i provvedimenti conseguenti. Sono comunque curioso di conoscerne i risultati anche se non nutro molta speranza di vedere soddisfatta la mia curiosità. L'ex vice sindaco ha lamentato inoltre la promessa non mantenuta del finanziamento di 30.000 euro per la messa in sicurezza proprio del sito dell'arcomagno. Anche in questo caso, prosegue in meno di mezz'ora, si può convocare il responsabile del settore regionale competente per fare una verifica sulle disponibilità di bilancio, sugli impegni già assunti e sulle eventuali economie che nel tempo si sono prodotte. Bisogna adoperarsi al più presto per mettere in sicurezza almeno il percorso e restituire con le limitazioni necessarie per una più adeguata fruibilità un luogo di incomparabile bellezza ai tantissimi visitatori. Ricordiamo inoltre che il governatore Oliverio proprio pochi giorni fa è stato a Scalea per parlare di turismo, ma del caso specifico nessun accenno. Madeo attende le risposte che magari arriveranno nella programmazione del 2017. Intanto il turismo resta terreno di scontro politico, occasione ancora solo potenziale rispetto a territori che hanno molto meno da offrire sotto vari profili, ma che riescono a vendersi con una promozione adeguata, attenta e capillare e strategie di marketing che non durano il tempo di un convegno. Esempi che andrebbero imitati e non soltanto guardati con ammirazione e un pizzico di invidia.